Ok, dopo quella scritta lì che avete visto, di So2 siamo finiti in questa casa, ispeziona la scena del crimine Ecco, ora più che So2 sembra CSI Non mi ricordo più, non lo guardavo una volta, ora non mi ricordo come si chiamano i... Oddio, che specchio è? Che schifo Non mi ricordo come si chiamano i componenti adesso Ma che tristezza Ottobre, anche quando nasco io, ottobre, no, cioè, c'è così, quella tristezza Sei brillissimo, oddio Buongiorno a te, è stato un po' di tempo, c'è stato un po' di tempo Perchè, mi aiutami Ehi, scusate per la messa Non è stato al top del mio gioco recentemente Dopo che mi sono liberato di Jigsaw, è stato difficile Tu sai come è, certo? In ogni modo, se Jigsaw lasciò qualcosa qui, lo trovo Ah, ste qua sono le vecchie vittime A te non ti ricordo, però Questo qua si me lo ricordo Questo? Non lo ricordo? Mi ricordo il nome di Tapp No La tutta linea di grandi coppi E ora Tutti i buoni hanno finito con il tuo padre Fuori da qui, Tapp Oh, oh, sei il figlio di Davids, non ti? Michael, certo? Sì, sei molto... Oggi ho pensato Che quanti cazzadini avrà? Ma che brutta gente, oh, in sto gioco Oh, 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 cos'è? Oddio Oh, non voglio la mamma Ok, dai andiamo Forza e coraggio Che la vita è di passaggio Minchia Perché sono così brutto adesso? Minchia che minchia Ah, ecco, ok, ok Allora, ok, ci sono, ci sono Sono proprio un altro adesso, ho capito Quello lì era una introduzione Ok, ok, ora ho capito, ho capito Minchia Questo qua siamo un manicome Perché è un condominio comunque Perché, perché per andare in corsa Per aprire una porta Che si apre poi in quel modo Fosse da spingere almeno Oddio Testa di maiale E come direbbero giù In Sicilia Testa di porco No, anzi Faccia di porco E testa di crashto Allora, usa la singa della salute Se quest'ultima è bassa Questa stanza potrebbe essere Il tuo rifugio O la tua tomba Me lo ricordo sta frase Sì, me lo ricordo Ciao Ciao Un altro che sto bevendo Minchia Oddio È partito Cos'è? Veni, aspetta! È partito lui prima Come è partito lui prima? Oddio, oddio Morirò qua dentro, morirò E adesso? Ma che senso ha? Non avete perso neanche una battuta C'è una battuta di Jigsaw dico In questo place, you will have To free those involved with your father's death To truly succeed You will need to not simply do what you were told You will need to investigate your surroundings Like the recorder you claim to be Save their lives and find the story of your father's death Discovering the truth will search your phrase Ferma You fucking psycho You killed my dad I'll find you I swear I swear Se hai più di scalzi come metti pericolamente che ti poteva ferirti Come del vetro sul pavimento Me ne ero accorto, sai? Minchia com'è acuta sta guida Allora Di Dino non si va Ok, è vero Vi ricordo Da qui è tutto nuovo per me La demo è finita lì dall'ascensore Oh merda Ah ok Ho visto un buco Ok ok Magari qua c'è qualcosa Carta igienica Questa cosa sono? Lucky Strike Cosa sono quelle? No Reverine Mi faccio un male del Dio No aspetta forse Ecco Meglio di qua Si ce l'ho azzeccato Un pochettino più buio si poteva fare il gioco no? Oddio Che buio Non ho neanche la torcia ovviamente Non ho neanche la torcia ovviamente Abc 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 QR, no 6, altre 2, 3, 4, 5, 6, 7 oddio 7 e l'ultimo son MN2 e vai ok, e finora ce la facciamo trovo il prossimo indizio oddio cos'è? ah, vedete quella porta mi sa tanto di ah, uscita via ma cos'è? candid camera? no, dai sono rimasto all'ibito ok, qua dentro è un posto piccolo se l'apre sicuro, lo sapevo ah, se qua è la stanza che vedevo io prova che prova che meriti una seconda opportunità te lo provo, te lo provo, tranquillo prima però ti rubo la carteginica allora no no, quando c'è un cazzo andiamo di qui oddio, oddio, oddio oh minchia anche i fucili a pompa ci hanno messo non bastavano le falci volanti che bello quando è che checkpoint che bello quando c'è luce ancora un altro checkpoint ah, ecco è di qui che è andato la bastarda di lì c'è una porta va bene, basta schiacciare il tasto prima vediamo cosa c'è qua valigie, aragnatele, aragnatele, valigie, carte igienica ah, raccoglie carte igienica no, un dossier ho letto due vite e sono stati riscaldati i pezzi di carne mancanti del loro corpo ovviamente fa un pezzino in po' lei accusa traficata di redale il condome è Aron a Navarro e loro mani hanno legato dalle funne collegate ad uno sistema di carro a causa del passato l'arma prima un po' è stato un uccisione contro la guerra fragano contattamente per una unità di violenza perché non è una sicura che nessuno nemmeno quelli dei alieni da capoducavo il killer del puzzle jigsaw ah, ecco cioè, jigsaw vuol dire il killer del puzzle? l è vero no, non credo non credo jigsaw cioè, sarà anche una parola composta ma non c'entra nulla con killer e puzzle credo oh, sbuca un altro testa di cazzo, no la stampella si temetemi ho una stampella aspettate nella prossima parte però ok siamo con una stampella in un ascensore che non porterà nulla di buono immagino ne spende comunque di corrente c'è, avrà una bolletta del leno e sto qua minchia che c'è che fa paura a Bill Gates oh, cos'è oh, cos'è? oh oh, oh, chi è? oh, che è? oh, oh, caddio! oddio, oddio che caga oh, ma dimmi i tasti via, via, via oddio non me lo aspettavo quante cassette audio ci sono dove sono i tasti? che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo cinquanta che cazzo che cazzo non ci posso credere allora dammi i tasti interagisci è impossibile chiudi te minchia, si blocca sempre speriamo che non sia capace no, è capace di aprire una porta oddio, dove devo andare? perché mi stai seguendo sto maiale, calvo? porca troia la siringa che me ne faccio della siringa oddio guardalo ah, aspetta ah, ok quindi tutti i combattimenti di questo gioco sono quick time event i famosi QTE uccido per riprenderti la tua vita l'ho fatto no ah, vabbè i tasti oddio serve un fusibile cazzo qua dentro cos'è che c'è ah, no la siringa è vero ah, è vero magari c'è il cadavere eh, vai giocando su 1 mi ricordo che c'erano sempre i cadavere le cose che ti servono e ora sbucano tre animici no meglio così beh, comunque bella sta cosa qua dei dei QTE bling su 1 per ammazzarne 1 ci aveva bisogno più di culo che di bravura dato che schiacciavi il test per l'attacco un'ora dopo forse attaccava ma non era sicuro siamo nel bagno degli orrori oddio cos'è vetro ma perchè c'è vetro ovunque sento di rumori cos'è un timer merda ecco appena entri in questa stanza parte una qualche sfida 1 2 3 no meno male ho visto qualcuno dall'altra parte si ah no forse devo salvare qualcuno segui le regole oh oh ci ho azzeccato andiamo un po' segnale segnale no 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 in che senso oddio no oh no no non fare scherzi non fare scherzi dove cazzo cerchi i numeri cos'è cos'è questo lo spioncino 354 cioè uno uno cieco 3504 oddio che numero è ah 3054 3 non mettermi fretta non mettermi sto facendo per te qua è morto è morto oddio è scomparso è esploso proprio oh senti non non potevo salvarti come cazzo facevo poi tu metti fretta è ovvio che io poi sbaglio no la mazza ce l'ho oddio cos'è ah un cadavere eh volevi andare a farti una pisciata eh ma qui non puoi neanche far questo allora il letto pieno di germi ok possiamo andare non c'era nulla oddio il filo spinato pure nei buchi come facevo a fare questo in 30 secondi aspettate siamo a 5 minuti e 36 secondi ci vediamo nella prossima parte di questo delirante gameplay ok